Ciao ragazzi, benvenuti al nostro canale ragazzi, questo è un nuovo video e raga, oggi vi farò vedere un nuovo video riguardo i Toads sono usciti i Toads finalmente e voi mi state vedendo di nuovo giocando e che sto facendo questi video stavo facendo gli impatti però mi sono stancato ora ho voluto fare dei video ancora nessuno ha trovato dei Toads, sto guardando tutti vediamo no raga, speriamo che ci sia qualche Toads guardiamo quanto costano il premier lead facciamo prima, vai no non sono questi, dai raga poi c'è il Vertogen che non voglio guardare ah, sì è vero cane, vai vediamo se cane che è sopra il 93 mettiamo subito vediamo quanto sta e De Gea ma Hazard cosa è il card stella ghiacciante mannaggia quanto cazzo si porta ah è vero c'era Hazard pure Hazard è 98 raga se lo trovo vi giuro faccio delle cose vabbè chi lo può trovare raga raga scusatemi se mi posso portare il video perché non posso aprire i pacchetti perché non ci hanno dato sti pack che possiamo aprire tutti insieme quindi non sprecherò i miei soldi e li lascerò per quando usciranno i pacchetti e li lascerò per quando mi vedo il video nuovo terreno gettone torse venti fuori torse ah buono cosa ce l'ha il centro di di guarda il di 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 raga raga però mi è sicuro che è bellissimo trovare sti tozzi vediamo se è venuto qualche vento ecco facciamolo insieme a voi aia ma faccio questo diventa ricco voglio diventare ricco diventare ricco vediamo se c'è un 200.000 magari però no come no dove voi ma vedete come io cerco ci vediamo ci ho messo troppo potenze 17 quando apri i pack qui che troverò li aprirò mannaggia questo mannaggia il pack bah così vedrete cosa ho trovato sono i premi del draft non mi fa male il draft non mi fa male il draft no che cosa mi fa ragazzi ragazzi io stop il draft no ha un senso facciamo il draft se ce la facciamo olè faccio il 2 no non c'è bisogno di arrisco fabbrica e si fa anche questo dai si vola martin garricks 1 2 3 no 130 1 3 0 si vola dai diventiamo ricchi che ricchi siamo vediamo questo vediamo raghe guardate i giocatori lukaku lukaku poi lo vedremo lukaku come sarà è la madonna è la madonna è difficile fuori no è difficile boom headshot headshot vai raga 3 su 3 vediamo anche i premi si dà raga se volete shopper oppure quindi non è un problema cos'è questo perchè mi dice 1 su 2 bababamba ora mi dà il ronaldo ah un giocatore della premiere ok nulla di che però ah va bene ora andiamo a vedere a cosa servono raga eeeh da qua possiamo vedere da qua a qua non c'è nulla manca qua quindi riserva bpl bpl scusatemi il pl servono 50 giocatori bpl eeeh 10 di quello vabbè non è un problema raga ce la faccio a fare quelli 10 di così però i giocatori non li voglio vorrei comprare in panchina cosa c'è raga li guardiamo tutti insieme voglio fare un tutt'analisi c'è vertogen walker lukaku hazard 93 ario vergogna raga hazard su play è 98 hazard 93 non costerà troppo perchè già c'è stella dei lose vabbè raga grazie per avermi visto il video ci vediamo nei prossimi video e ciao ciao